Ma lo sai che sono iniziati i saldi di fine stagione per il paese Italia? Ebbene sì, facciamo una riflessione dal punto di vista politico sulla situazione attuale dell'Italia. Una situazione che a me preoccupa molto. Quelli che dovevano essere i patrioti in realtà si stanno rivelando coloro che stanno mettendo mano ai beni comuni, alle aziende, alle partecipate e li stanno letteralmente svendendo. Di fatto distruggendo quello che era il nostro impianto e della nostra nazione. Come lo stanno facendo? Bene, da una parte abbiamo un piano strutturale di bilancio che prevederà lacrime e sangue per il paese, anche per colpa del devito pubblico che ci portiamo sul collo. E su questo è colpa di tutti i governi precedenti, non solo di quello attuale. E ovviamente per un incremento della tassazione delle spese e una riduzione massiccia del potere d'acquisto degli italiani. Ci troveremo a breve con persone che lavorano e sono povere, ovvero che non riescono ad andare oltre la seconda o la terza settimana. Sostanzialmente facciamo da passamano, il denaro già entrato da una parte, esce subito dall'altra e poi abbiamo ancora due o tre lunghissime settimane per arrivare al prossimo stipendio. Quindi il valore d'acquisto dei nostri stipendi che è crollato. Poi abbiamo una grande fetta di italiani che sono sempre più poveri e quindi anche il dato, e ci viene dato spesso l'occupazione di un aumento, è un dato refrattario perché se diminuisce il potere d'acquisto gli italiani non riescono poi sostanzialmente a sostenersi. Dall'altra abbiamo l'avvento dell'intelligenza artificiale e della robotica che ovviamente andranno sempre più a sostituire quei lavori difficili, complessi e usuranti che vedono impegnate tantissime persone, creando così a poco a poco una sempre maggiore disoccupazione a fronte della mancanza di un reddito universale che possa in un qualche modo garantire a tutti gli italiani di mantenersi. Abbiamo poi delle relazioni sempre più strette fra Giorgia Meloni e tutto quel mondo, quel gruppo mondo finanziario internazionale da BlackRock a Microsoft a Elon Musk che ovviamente sono interessati a partecipare alle nostre aziende ma perché rendono utili e capitali importanti e poi hanno ovviamente un'ingerenza forte anche sulla politica nazionale e ovviamente europea in generale. Dall'altra parte abbiamo visto che anche il governo Meloni non è stato capace di intervenire sulla tassazione degli astraprofitti prima delle multinazionali energetiche che compravano ancora il gas ai prezzi pre-crisi ma lo vendevano agli italiani e alle aziende italiane con i prezzi battuti dalla borsa di Amsterdam, quindi a prezzi post-crisi molto aumentati, quindi facendo un margine di profitti molto superiore al normale. Dall'altra abbiamo visto la stessa cosa con gli extraprofitti delle banche. Estraprofitti perché sono stati fatti per un aumento dei tassi di interesse voluto dalla BCE e applicato immediatamente dalle banche italiane, quindi aumentando poi i costi dei mutui, dei prestiti, del profitto che si faceva sui conti scoperto, senza però controbilanciare con un aumento delle percentuali dei correntisti, ovvero del tasso di interesse dei vostri conti correnti. Il governo doveva intervenire con una sorta di tassazione degli extraprofitti, cosa che non ha fatto perché ovviamente in Italia il potere delle banche è molto molto forte e molto ingerente anche nel mondo della politica. Quindi siamo di fronte a una situazione difficilissima e complessa dove l'italiano medio si trova ad essere una pedina che non interessa sostanzialmente a nessuno, a nessuna parte del mondo politico. D'altra parte Giorgia Meloni non ha venuto nemmeno a introdurre il salario minimo che sarebbe andato minimamente a coinvolgere qualche milione di italiani che oggi vedono i loro salari sempre più a ribasso. Insomma, lo scenario che si sta profilando è quella di un'Italia sempre più povera, sempre più in mano al potere finanziario, sempre più sciacallata, diciamo così, nei suoi beni comuni, non siamo stati capaci nemmeno di fare la legge sulle spiagge libere, anche qui lo lasciamo in mano ai privati che si nutriranno a man bassa di tutto il nostro patrimonio senza avere grandi ricadute sul territorio e tutto questo crea uno scenario mai visto prima, uno scenario di neoliberismo come il sistema economico che stiamo vivendo che genera solamente una piccola percentuale di ricchi e una grande massa di poveri. Questo sistema abbiamo visto che non funziona, non sta funzionando, lo vediamo bene anche in alcuni paesi stranieri laddove è più spinto, come per esempio gli Stati Uniti dove viene a mancare sostanzialmente tutto al cittadino e ci troviamo così di fronte a una situazione veramente incresciosa. Aggiungo che su questa strada sono andate anche le sinistre in precedenza, adesso sembra che ci sia una grande elettromarcia, ce lo auguriamo che tutto il mondo di sinistra che prima credeva che il mercato avrebbe risolto ogni problema, oggi sembra fare elettromarcia e comincia a capire che se non mettiamo delle regole al mercato, il mercato ci sbranerà, d'altronde come diceva Hegel il mercato è come una bestia selvatica e la politica deve governarlo, deve allacciarlo in un qualche modo e imbrigliarlo in modo che lui funzioni entro certi confini, se esce da quei confini quella bestia selvatica rischia di mangiarsi tutto e questo è ciò che prevede in estrema sintesi, non me ne vogliono gli economisti, anzi vi invito a commentare se volete aggiungere dei dati a quello che sto dicendo, è quello che sta però sostanzialmente accadendo al paese Italia, ma anche a livello globale in tantissimi paesi. Dobbiamo oggi iniziare a riflettere in un nuovo sistema economico, un'economia mista che preveda il sostentamento di tutti i cittadini, una vita dignitosa per tutti, educazione, sanità e ovviamente il diritto alla casa per tutti i cittadini, perché questa è la base oggi per poter partire ed avere un sistema minimamente competitivo, volete puntare sulla competizione? Ok, per puntare sulla competizione come in ogni competizione partiamo tutti dalla stessa linea, non è più competizione se facciamo i 100 metri e qualcuno parte al 99esimo metro e qualcuno parte 120 metri indietro. Capite bene che questa invece è la situazione che ci stanno sdoganando, le bugie che ci avevano raccontato su questo sistema economico si stanno manifestando tutte, sono state negli anni sempre denunciate da tantissimi economisti stessi, da tanti politici e oggi purtroppo stanno dando i loro frutti. L'economia mista prevede inoltre che il mercato sia libero, sì, ma all'interno di certi contesti, per certe situazioni, per certi tipi di attività e non per tutto. Non possiamo lasciare un mercato libero assolutamente che produca persone come Elon Musk che riescano a pensare a colonizzare Marte da privato, e poi cosa farà? La privatizzerà? La venderà? Cioè, vi rendete conto dell'assurdo? E persone che oggi, nello stesso pianeta in cui vive Elon Musk, che pensa di andarsi a accaparrare Marte, stanno morendo di fame. Questo è un sistema che nel 2024 l'umanità non può e non deve più permettersi. Tra l'altro aggiungiamo che il frutto di questo grande sforzo e grande arricchimento di pochi ha causato una crisi climatica che sta devastando l'intero pianeta di tutti quanti noi. Qualcuno è responsabile, deve pagare. Tassiamo i più ricchi e ripristiniamo dignità per tutto il paese. Ripeto, ditemi che cosa ne pensate e iscrivetevi al mio canale per creare una voce critica nella politica italiana.